Uno dell'International GT Open a Monza per il stesso round del campionato con Dolby che prende subito il comando dalla seconda posizione mentre Bella ha qualche difficoltà dalla pole anche Boaveng si porta subito in seconda posizione il contatto con la McLaren con il pilota inglese costretto a tagliare contatto anche tra le Lamborghini di casa imperiale danneggiata quella di Vito Postiglione con Marco Mapelli che si vede costretto a tagliare a rincorrere Dolby, Mapelli, Boaveng e Bell il trenino che ha animato la parte iniziale di questa corsa prima del cambio il sorpasso di tappi ai danni di Liuzzi con Tom Ozoncall all'attacco di Philippe Frommwheeler una Lexus un po' appannata in questo inizio la manovra vincente di Mapelli nei confronti di Dolby il cambio piloti che vede poi uscire la Lamborghini alle spalle della Gallardo alle spalle a sua volta della McLaren di Balfe che deve però cedere la posizione il contatto finale tra Farnbacher Gian Maria e Lorenzo Brauda Vega e la vittoria al debutto di Seb Morils insieme a Craig Dolby nel International GT Open qui a Monza per il penultimo appuntamento stagionale e la fuga in classifica di campionato di Giovanni Venturini in solitaria davanti a tutti con la Lamborghini di casa imperiale. Grazie a tutti! Grazie a tutti!